Siamo con il senatore Liris oggi per parlare di Long Covid, ecco è emerso che sono tanti sintomi e gli effetti seguiti all'epidemia da Covid, che cosa sta facendo la politica? Quali sono le prospettive future? L'analisi dei dati è fondamentale, oggi a distanza di qualche anno possiamo andare ad analizzare quelli che sono gli esiti a medio e lungo termine rispetto a chi è stato severamente colpito dal virus epidemico e pandemico, pertanto quello che oggi abbiamo a disposizione sono, ripeto, dei dati e delle situazioni che oggi devono portarci a disegnare delle strategie di prevenzione sui territori, anche andando in un'intersezione tra ospedale e territorio, a prevedere quali strumenti possano essere messi in campo per prevenire quelle che sono ormai sempre più frequenti in termini zoonosi, parlo appunto, infezioni che vanno a colonizzare, a occupare l'Occidente e soprattutto a mettere alla prova dei sistemi sanitari, in particolar modo dei Dipartimenti di Prevenzione Territoriale, che molto spesso vengono smantellati a favore di sistemi che prediligono l'assistenza e la cura del paziente. Riprende il sopravvento, il protagonismo, il territorio con i Dipartimenti di Prevenzione, laddove i Dipartimenti di Prevenzione vengono da una cultura storicamente consolidata rispetto a quella che è lo screening, la gestione del territorio, il protagonismo della medicina di base. I Dipartimenti che vanno in qualche modo con l'epidemiologia, la statistica e il flusso di dati a tenere in considerazione con una rete che veda, ripeto, i medici al centro, i medici di medicina generale al centro, che possano quindi con dei dati e delle conoscenze sui singoli pazienti passare da una medicina preventiva quasi a una medicina predittiva, sulle zoonose si può fare la differenza anche, ripeto, in prospettiva. Quindi un modello organizzativo e un modello sanitario a disposizione rispetto a un futuro che potrebbe prevedere, potrebbe vedere nuove infezioni mettere alla prova certamente il sistema, che ha avuto degli scossoni importanti qualche anno fa perché nessuno aveva piena contezza di un dramma che potesse colpire contemporaneamente tutto il mondo. Quindi non c'era la capacità e la possibilità perché questo molto spesso accade, di andare a ricorrere al vicino che ti possa dare una mano in termini di forniture, in termini di strumentazione, in termini di scienze e di tecnologia. Quando si viene colpiti tutti all'unisono bisogna evidentemente avere la capacità di rispondere e di essere capaci di mettere in campo strategie materiali, tecniche e tecnologie che siano performanti. Quindi il sistema Europa, più che il sistema Italia, deve assolutamente essere al passo con i tempi e dimostrare di non essere su come di altri sistemi come quello orientale, già soltanto per la disponibilità di mascherine. Abbiamo messo riparo a tante situazioni, ventilatori, mascherine, con il tempo, ma il tempo ha significato morte di tanti infetti. Oggi dobbiamo predisporre il sistema di animazione, il sistema pronto soccorso, il sistema di prevenzione territoriale, tecnologie e mezzi, anche dispositivi di prevenzione individuale che possano essere chiaramente un argine alla diffusione, quella che c'è stata in particolar modo nei primi giorni, così semplice, così troppo semplice per quanto riguarda appunto il virus. Una sanità da ripensare tutta proprio nell'ambito della prevenzione e prediligere il territorio rispetto all'ospedale può essere la soluzione stessa.